Sicuramente abbiamo approcciato la partita in una maniera incredibile, una delle migliori partite che abbiamo fatto fino ad ora. Abbiamo meritato questo risultato, abbiamo meritato la prestazione che abbiamo fatto, siamo stati sempre sul pezzo per 90 minuti. Io come oggi penso che ho fatto una buonissima partita, ma senza i miei compagni non avrei fatto nulla, quindi il merito è di tutti quanti. Sì, infatti mi sono arrabbiato con me stesso, mi sono arrabbiato quando mi ha cambiato, potevo fare gol anche prima, però vuol dire che la prossima volta devo stare più concentrato se capita di fare tripletta. Vi rispettavate di passeggiare così sulla casettana oggi? Praticamente non l'avete fatta esistere la casettana. Noi abbiamo un modo di approcciare le partite, di preparare le partite, voi conoscete il mister come vuole giocare, ad andare sempre in pressioni alti, ad andarli a mangiare sempre in ogni reparto. Penso che oggi abbiamo fatto questo in una maniera veramente ottimale, siamo contenti veramente. La partita sparte alto, quella di Caserta, nel senso che può dare una svolta al campionato del Messina? Io come ho detto due, barra tre mesi fa, questa squadra non merita questi punti perché tante volte abbiamo dimostrato di giocare veramente un bel calcio, di immeritamente perdere qualche partita, ma come è giusto che sia in ogni campionato i giocatori importanti quando li hai in campo si fanno sentire. Oggi penso che noi eravamo al completo e abbiamo dimostrato di essere una squadra che può dare veramente fastidio a tutti. Hai dato fastidio pure con la Piconetti? Sì, sono passati quasi sei anni. Un po' sì, dai, per fortuna. Siamo arrivati al prossimo episodio.